Ciao a tutti voi da Rosi, siamo ancora in vostra compagnia e entriamo con la nostra vetrina nelle vostre case parlandovi di Nissan, tutto questo in compagnia naturalmente di Auto Formula come leggete qua in sovraimpressione quindi vedremo grandi occasioni, grandi promozioni e parleremo anche di vetture a chilometri zero, aziendali e d'occasione A te Alessandro Ciao Rosi e buonasera a tutti Eccoci e benvenuti nel nostro autosalone Auto Formula con in esposizione tutta la gamma Nissan al completo Eccoci qua a parlare soprattutto della gamma crossover ma soprattutto di chilometro zero aziendali che è la vera offerta del nuovo anno 2018 e infatti per concludere il 2017 qualche immatricolazione e qualche offertissima pronta per voi Vastissima scelta è quella di vetture aziendali e chilometro zero e infatti abbiamo la possibilità di scegliere sia per data di immatricolazione 2016 che 2017 ovviamente il prezzo sarà in funzione anche di questo chilometraggio bassissimo o addirittura zero ma al massimo sulle aziendali arriveremo a 15.000 km circa Partiamo dalla Micra vecchio modello, la nostra collega appena uscita di produzione 1.200 benzina, tre cilindri che consuma pochissimo a partire da 8.990 Vasta scelta anche di Micra nuovo modello, si parte dal 1.000 benzina sino ad arrivare alle motorizzazioni diesel Vasta anche la scelta di versioni, motorizzazioni e di allestimenti infatti potremo trovare addirittura le vetture iperaccessoriate con gli interni in pelle Qashqai X-Trail, su queste componenti della gamma lo sconto sarà fortissimo Stiamo parlando infatti di fino a 10.000 euro di sconto con ampia scelta soprattutto di cambio automatico o 4x4 anche su Qashqai considerando anche una rarità e infatti abbiamo qua un Qashqai a 100 4x4 con un costo davvero limitato si parla infatti di 23.500 euro per un chilometro zero immatricolato da poco Ed ora proseguiamo con le occasioni dell'usato Partiamo da un Qashqai usato con soli 70.000 chilometri ma la motorizzazione sarà il più potente 1.600 diesel da 130 cavalli si tratta di una versione a 100 già arricchita e infatti è completa di navigatore e retrocamera il tutto per soli 16.500 euro Honda Civic a 14.600 con soli 6.000 chilometri immatricolazione ad aprile 2017 nuovissima, nuova di pacca bianco metallizzato Ford Ka del 2015 a 6.900 con soli 67.000 chilometri Dacia Duster del 2012 con 49.000 chilometri percorsi si tratta di un 1.600 benzina aspirato 8.500 euro è il suo prezzo Fiat 500X dell'anno 2015 con soli 23.000 chilometri e la proponiamo a 18.9 si tratta infatti di una versione iper accessoriata 2.000 diesel di cilindrata con ben 140 cavalli accoppiata a trazione integrale e cambio automatico vi possiamo proporre un Nissan Cube bellissimo dall'estetica iper ricercata a soli 62.000 chilometri ma questa vettura è equipaggiata di un cambio automatico ottimo quindi anche in un utilizzo cittadino si tratta di una vettura del 2010 e la proponiamo a 9.900 euro Skoda Octavia in versione RS equipaggiata con già un cambio DSG questa Skoda è dell'anno 2010 e ha percorso 90.000 chilometri la proponiamo a 11.000 euro ma si tratta del top di gamma quindi vi ricordo interni in pelle totale gruppo ottico all'oxenon e tanto altro ancora da scoprire su questa vettura Fiat Bravo 83.000 chilometri del 2013 e si tratta di una versione benzina la proponiamo a 6.800 euro ed è ancora in ottime condizioni con una vernice nero metallizzato guidabile anche da neopatentatio abbiamo una bellissima Renault Clio il suo anno è solo il 2017 questa vettura è infatti nuova nuova ha percorso pochissimi chilometri e si tratta di una vettura benzina già arricchita di qualche accessorio abbiamo infatti i sensori di parcheggio al posteriore i fari a led diurni all'anteriore e si tratta di il prezzo di 10.200 euro ed eccoci qua di fianco alla nostra neonata la nostra piccolina di casa Nissan è infatti la più corta di tutta la gamma si tratta di 3.99 giusto al pelo per stare al di sotto dei 4 metri la nostra piccolina è però iper equipaggiata si tratta infatti di una vettura in cui di serie avremo sempre la frenata di emergenza e quindi ci eviterà il tamponamento fino ai 50 km orari nonché il rilevamento della segnaletica stradale tutto questo ci verrà poi ovviamente riportato sul display a colori a bordo sulla vettura di fronte ai nostri occhi davanti al tachimetro di fianco troviamo un altro display touch screen con possibilità del mirroring delle applicazioni direttamente dall'iPhone con tanto di comando al volante per gestire Siri e quindi guidare in tutta comodità ordinando al telefono di fare qualsiasi cosa a noi possa servire quindi inviarci un messaggio mettere della musica da Spotify e tanto altro così come l'utilizzo delle mappe e quindi senza un navigatore integrato nella vettura ma utilizzando il nostro telefono fortissima l'offerta su questa vettura viene infatti proposta a partire da 9950 per quanto riguarda la motorizzazione 1000 benzina aspirato da 73 cavalli guidabile da neopatentati ma questa possibilità è stata finalmente espansa a tutto il resto della gamma potrete infatti adesso anche da neopatentati apprezzare la potenza del 90 cavalli diesel o benzina a vostra scelta con tanto di ruota di scorta in omaggio direttamente nel bagagliaio ed eccoci qua con l'X-Trail è la nostra vettura più alta e più grande di tutta la gamma è infatti la nostra ammiraglia non abbiamo più una station wagon ma un comodo e bellissimo SUV sport utility vehicle e infatti ci permette di affrontare sia tracciati fuori strada che in strada nasce a trazione interiore ma abbiamo la possibilità ovviamente di espanderci con il 4x4 e il cambio di tipo automatico questa vettura nasce 1600 ma è sempre possibile avere la motorizzazione 2000 diesel 2000 da ben 177 cavalli biturbo con una coppia davvero portentosa questa vettura è in grado di spingerci in qualsiasi condizione anche su una parete particolarmente ripida o scoscesa con tanto di gruppo ottico completamente a red 4 videocamere quindi una da ogni lato navigatore climatizzatore automatico bizona e quindi tutti i comfort del caso senza dimenticarci ovviamente della possibilità della pelle totale all'interno così come dell'impianto audio della Bose dei sistemi di prevenzione attiva della sicurezza e quindi la frenata d'emergenza l'avviso di cambio di corsia la copertura dell'angolo cieco grazie anche ai sensori sotto gli specchietti e alle 4 videocamere ecco che la macchina ci offre davvero ogni accessorio che ci possiamo immaginare possibilità dei 7 posti quindi anche per le famiglie un po' più allargate o per delle scampagnate anche con qualche amico in più a bordo della nostra vettura si tratta di un bagagliaio fenomenale è infatti possibile espanderlo ed arrivare fino a quasi 2000 litri di capienza questo grazie sempre al doppio fondo non dimentichiamoci che l'X-Trail è l'unica della gamma che ci dà sempre il ruotino di scorta di serie e qualora si abbinasse l'impianto audio della Bose rimane comunque il subwoofer all'interno del ruotino quindi senza andare a recuperare senza andare a tagliare spazio al nostro bagagliaio forte la nostra top di gamma e fortissimi saranno anche gli sconti vi ricordo che il prezzo base di partenza della vettura a trazione anteriore con la motorizzazione benzina turbo e quindi il 1.6 portentoso da ben 163 cavalli spinge questa vettura ad una velocità pazzesca ad un prezzo di favore di soli 25.650 euro di partenza con sconti fino a 4.500 euro circa su tutta la gamma la versione che stiamo ammirando è una Tecna e quindi come il nome ci lascia intuire tecnica sarà sicuramente la sua equipaggiatura infatti troviamo qui le quattro videocamere i sensori di parcheggio davanti e dietro addirittura il sistema di parcheggio autonomo su questa macchina viene lasciato davvero poco al caso persino il portellone del bagagliaio sarà automatico e ha particolari sistemi di sicurezza ma anche dei sensori per tenerci ovviamente attivi alla guida e monitorare il nostro stato di attenzione qui con noi è il nostro best seller è infatti la più venduta di casa Nissan non so se vi sia davvero bisogno di parlarne perché il Qashqai è ormai sulla bocca di tutti conosciuto da dieci anni come il SUV migliore di tutto il mondo e infatti questa macchina ha aperto la pista per tutti i crossover di qualità ormai diffusi in qualsiasi marchio voi andate a vedere Qashqai ha già tutto di serie è una macchina che punta infatti sulla qualità eccezionale per il costo a cui viene proposta e infatti la macchina nasce a pacchetti e non sarà possibile stravolgere l'equipaggiamento di serie dove infatti niente viene lasciato al caso sempre di serie troviamo infatti particolari accessori quali per esempio tutti e quattro i finestrini elettrici servo sterzo sistemi di sicurezza e quant'altro ma viene arricchito in questa versione che stiamo guardando dai sistemi di sicurezza attiva quindi anche la frenata di emergenza l'avviso di cambio di corso involontario come la lettura della segnalitica stradale navigatore satellitare sensori di parcheggio davanti e dietro faro completamente a led ormai di serie già a partire dall'N Connecta nell'anno 2018 e possibilità di implementare questa vettura grazie infatti alla guida autonoma resa disponibile da marzo di questo anno anche l'occhio vuole la sua parte ed eccoci qua infatti di fianco ad una versione che strizza un attimino di simpatia anche al nostro auto estetico cerchio bicolore da 18 pollici con taglio al diamante tetto panoramico e barre sul tetto finestrini oscurati per un occhio di riguardo in più griglia vicromata e fascione nero centrale per un family feeling che troveremo su tutte le vetture di gamma nissan al suo interno accessori di ogni tipo dal cruise control limitatore di velocità all'ingresso senza chiavi avvio senza chiavi della vettura ovviamente di serie lo start and stop la macchina infatti a semaforo si spegnerà e si riaccenderà senza che noi neanche ce ne renderemo conto sensori di parcheggio davanti e dietro per parcheggiare in qualsiasi spazio con tanto di possibilità di vedere qualsiasi cosa qualsiasi oggetto attorno a noi sul display del navigatore navigatore già di serie su questa versione proprio così come il supporto lombare è infatti una macchina da viaggio che vuole distinguersi per le sue caratteristiche che di comfort e di guidabilità senza lasciare spazio a qualsiasi critica sotto il punto di vista della sicurezza sempre in primo piano per noi nissan sconti fino a 4.000 euro su tutta la gamma venite a scoprire l'offerta a voi riservata sulla vettura da voi desiderata qui la nostra prepista per quanto riguarda il settore dell'elettrico la più venduta al mondo tra tutte le macchine elettriche sino ad oggi è infatti quella che peraltro ha percorso più chilometri quindi sicuramente possiamo dire con certezza che è anche la più testata di tutte una vettura sicura di sé con un pacco di batterie che vi permette di effettuare fino a 200 chilometri senza doverle ricaricare 200 chilometri si tratta di un'autonomia ancora non esagerata e infatti lei è in offertissima questo perché a brevissimo ci arriverà la nuova Nissan Leaf con un'autonomia dichiarata della casa madre fino a 380 chilometri circa questa versione è infatti un'offerta si tratta di un prezzo super vantaggioso soprattutto per quanto riguarda la nostra Leaf aziendale con soli 500 chilometri percorsi ed un costo ben inferiore ai 20.000 euro venite a scoprirla per qualsiasi ulteriore informazione o di un'eventuale prova su strada dove infatti l'elettrico saprà sicuramente stupirvi grazie al suo comfort silenziosità di guida ma incredibile potenza sempre disponibile grazie alla presa diretta e infatti il cambio non avrà più le marce classiche come voi le immaginerete bensì sarà sempre in trazione e quindi in base a come noi premeremo sull'acceleratore la risposta della macchina sarà diretta ed efficace per qualsiasi situazione in qualsiasi momento tantissime ancora le nostre offerte ma il nostro tempo è purtroppo giunto al termine ed ecco qui quindi a salutarci un ciao naturalmente a te Alessandro e un ciao a tutti voi grazie a tutti e buonasera grazie a tutti grazie a tutti